salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video ormai il natale si avvicina e sicuramente qualcuno di voi ha intenzione di regalarsi o di regalare lui il dji mini 2 in versione morefly combo oggi appunto sono qui per questo motivo a regalarvi un codice sconto da utilizzare nel sito beats model per avere al prezzo del dji mini 2 quindi di 599 euro anche questa valigetta di trasporto antiurto inclusa quindi inserendo il mio codice sconto am9 che starebbe per andrea montanari 9 comunque il codice am9 inserita il codice sconto dopo aver inserito il prodotto nel carrello appunto nella finestrella dei codici sconto e il prezzo che vi apparirà all'inizio di 658 euro cioè di questo pacchetto diventerà di 599 euro quindi pagherete solo il dji mini 2 ma questa valigetta antiurto antipioggia antisabbia antipolvere antitutto ragazzi perché guardate che spettacolo che è questa valigetta non è una valigetta economica perché avete capito che costa la bellezza di 59 euro quindi una valigetta già di un certo prezzo e poi totalmente sagomata per il dji mini 2 e tutti i suoi accessori anche l'alimentatore quindi ragazzi è uno spettacolo di valigetta se dovete fare un regalo poi tanta roba perché fate una figura incredibile drone più questa valigetta fate una figura pazzesca ma poi anche per voi stessi comunque pagate il drone e questa è gratis e i codici sono solo per 9 acquisti quindi solo 9 di voi potranno avere questo sconto e avere questo prodotto in omaggio ringrazio giuseppe fornarori titorale appunto di biz model di avermi dato appunto questo codice sconto da offrirvi a voi ho insistito nel farmi dare un qualcosa per da regalarvi e sono riuscito ad ottenere questo codice sconto che mi permette di avere questa valigetta di trasporto gratuitamente magari tanti di voi non conoscono biz model è un sito online di vendita droni ma loro sono importatori e rivenditori ufficiali dji infatti se andate poi nella pagina ufficiale del dji quindi dji.com trovate appunto un riferimento a biz model perché essendo loro rivenditori e importatori ufficiali risultano appunto nella pagina dji.com e poi una cosa da non sottovalutare che acquistando da biz model avete anche un'assistenza perché loro hanno un laboratorio loro di riparazione droni oltre ovviamente a inviare il vostro drone a direttamente a dji in olanda nel caso di problemi veramente gravi o cose a cui loro non possono accedere altrimenti comunque quando il prodotto sarà anche fuori garanzia anche fuori da qualsiasi cosa potrete sempre contare sull'assistenza di biz model anche dal punto di vista appunto delle riparazioni fatte direttamente dal loro centro assistenza quindi ragazzi spero di avervi fatto cosa gradita avervi procurato questi nuove codici sconto per avere appunto questa possibilità di avere questa valigetta incredibile perché ragazzi è fantastica ve la faccio rivedere perché davvero davvero bella e soprattutto è una valigetta proprio anti urto trasportare il dji mini 2 tutti i suoi componenti all'interno di questa valigetta non rischiate assolutamente di danneggiare il dji mini 2 quindi ragazzi se questo mio video in cui vi ho portato questo codice sconto a m9 da inserire nella pagina d'acquisto che vi lascio qua sotto in descrizione vi è piaciuto e vi è stato utile lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram dove porto tante nuovi tante prime spoiler voline fpv stampe 3d e tantissime cose arrivano su instagram sempre se vi va iscrivetevi al mio canale 3g offerte per sostenere questo canale ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdervi neanche un video un volo una recensione o un'offerta come questa ciao ciao